In accordo tra accusa e difesa è stato deciso di acquisire le sit, sommare informazione testimoniale di una serie di testi indicati dal PM di Giovanni nella processo per l'agguato sulla strada Parco a Pescara avvenuto il 1 agosto del 2022, costato la vita all'architetto pescarese Walter Albi al ferimento grave di Luca Cavallito. In udienza oggi in corte d'assise a Chieti dunque si è conclusa la fase dei testi d'accusa con le deposizioni, rispettivamente le carceri di Vigevano e Frosinone, di Fabio Iervese e Renato Mancini, i due che hanno partecipato alla famosa rapina al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti l'11 luglio dello stesso anno insieme a Cosimo Nobile, principale imputato, e Maurizio Longo. Secondo l'accusa infatti l'arma che sarebbe stata utilizzata da Nobile per l'agguato al bar del parco è quella sottratta in questa rapina a una guardia giurata. Incalzati dal PM di Giovanni Iervese e Mancini sono stati chiamati a confermare quanto già dichiarato nella fase investigativa sulle modalità e sui dettagli della rapina eseguita materialmente da Nobile e Longo con Iervese e Mancini a debita distanza a bordo di una Porsche pronti per la fuga. Si è parlato di un'accesa discussione tra Nobile e Longo con quest'ultimo che si è lamentato per il fatto che Nobile avesse gettato il casco sul luogo della rapina quando invece sarebbe stato meglio disfarsene insieme a tutta l'altra roba in un secondo momento. Poi sull'arma Iervese dichiara di averla sentita scarrellare da Longo una volta saliti in macchina mentre Mancini, una volta giunti tutti in un appartamento all'angolo tra Via Davalos e Via de Meis per la ripartizione del bottino nell'intento di aggiungere alla pistola la roba da far sparire e ha dichiarato di essere stato bloccato da Nobile che gli avrebbe detto no, questa serve a me. Il presidente della Corte Guido Campi ha dato tutti appuntamento a giovedì mattina per l'attesa deposizione di Nobile mentre a chiusura dell'udienza di questa mattina le telecamere di Diego Martelli intercettano scaramucce a distanza tra Nobile e Cavaldito ripresi prontamente da un agente della polizia penitenziaria e dall'avvocatessa Saradincecco. Noi siamo convinti dell'estranità del nostro assistito. Il processo fino adesso ha confermato un po' quelle che erano le idee che già c'erano nel corso delle indagini preliminari. Noi riteniamo che alla fine l'unica circostanza che continua a essere contraria alla posizione di Nobile è la testimonianza della persona offesa di Cavaldito. Noi riteniamo che sia rimasta solo quella. Ora ci saranno i nostri testimoni, le testimoni a discarico, le testimoni a difesa. Lì introdurremo nuovi temi che forse poi la Corte potrà analizzare con grande tranquillità come farà e potrà poi valutare se ci sono i presupposti per la soluzione di Nobile. E sull'economia del processo pesa ovviamente come un macigno ciò che ha riferito Luca Cavaldito? No, anche quello che è stato detto oggi va ad aggiungere un tassello, ritengo decisivo, alla tesi della fondatezza e della rispondenza al vero di quelle che sono le rappresentazioni dei fatti offerte da Luca Cavaldito con un racconto che è stato lucidissimo.